Il vento che soffia tra i capelli, la natura avvolgente, sotto i piedi un baratro di oltre 1200 metri e solo una piccola linea a separarci dalla caduta. La cima del Monte Forato, dopo l'altalena, torna a diventare lo scenario ideale per un'altra attività adrenalinica, il tricklining. Questo sport, nato negli Stati Uniti, consiste nel praticare evoluzioni a parecchi metri dal suolo, tenendo l'equilibrio sopra una fettuccia larga solo pochi centimetri. L'evento è stato organizzato dalla società sportiva Slackline Toscana e si è svolto alla fine di aprile con il patrocinio del comune di Stazzema. E non sarà un caso isolato. Sono già in cantiere, infatti, altre iniziative. Le riprese dei partecipanti sono state pubblicate in questi giorni sui canali social del comune di Stazzema.